offre ancora costi più veloce lo scorrimento della sfera qui sul parquet del Palatouriv rispetto al circolo Stella Azzurra c'era lì dentro con una palla straordinaria e con Becky che è ingirata un mezzo, tacco, davvero molto bello da vedere 1-0 Virtus Stella Azzurra che grande azione rimessa fuori proprio Ciaralli ad impegnare severamente stramenga Ciaralli sventola a pochissimo dal palo seconda frazione quando Ciaralli è pronto alla battuta di questo calcio di punizione per fallo di Galluzzi ecco la sua rincorsa bomba di Ciaralli forse anche una deviazione ma la sostanza dice che il gol del 7 il capitano della Virtus fa 4-3 Becchi Ciaralli lunghissimo l'assist per Becchi che grande giocata di Ciaralli che grande giocata di Ciaralli qui Cala Virtus quindi Galluzzi l'intervento in scivolata di Ciaralli Tosti ancora da Ciaralli sull'esterno della rete una pazza idea di Ciaralli Becchi Ciaralli spara fuori Ciaralli 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 ciaralli